Ciao a tutti da Saludatore, grandissima sorpresa qui alla festa del cinema a Roma, all'auditorium. Vediamo che abbiamo una bellissima sorpresa, abbiamo Mavina Graziani. Facciamo un saluto a tutti i tuoi fans. Un passo a tutti. Ecco qua, anche un brindisi. Sì, stiamo anche a vedere, stiamo dichiarando troppo. Ecco, troppo. Grazie Mavina, ciao a tutti da Saludatore e seguito da sui social che va fortissimo Twitter, Instagram, tutto quanto. Grazie, ciao.